Puliamo il mondo anche a primavera. L'iniziativa promossa da Lega Ambiente nel periodo autunnale è stata rilanciata a Lodi anche per il periodo primaverile. Ad accoglierla, oltre agli organizzatori di Lega Ambiente, è stato un utrito gruppo di indiani residenti in varie località della Lombardia che fanno riferimento al maestro spirituale Ji con l'associazione Derasavna Sauna. Si tratta di una realtà che oltre a diffondere la cultura alimentare dei vegetariani si dedica a pratiche umanitarie con particolare attenzione al rispetto per l'ambiente. Così dopo il raduno all'isola Carolina il nutrito gruppo di indiani è stato ripartito in tre gruppi inviati in altrettante zone della città per procedere alle pulizie di primavera. Le aree rimesse a nuovo, la Faustina, il Lungoad e la Martinetta, hanno potuto usufruire dell'apporto gratuito di questi indiani che si sono riboccati le maniche rimediando alle pessime abitudini di tanti lodigiani di gettare per terra ovunque scarti di ogni genere. Al gruppo di indiani sono andati i ringraziamenti dell'amministrazione comunale della città rivolti dall'assessore Stefano Caserini. Fa specie comunque che siano degli stranieri anche se da tempo in Italia a rimediare le negligenze dei lodigiani.